Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi siamo nel bosco ma è prevista tanta acqua a breve quindi prima di metterci a batonare come i matti vediamo di montare il nostro DV Ammox 4x4 che ci proteggerà dall'alluvione, via! Ragazzi fatto il palo centrale arrotondato ovviamente per non rovinare il tarp e adesso gli mettiamo anche il sacchettino del tarp che contiene i paletti del tarp così ha una protezione in più ok andiamo a metterlo nella nostra capannuccia ragazzi ovviamente il palo lo dovete mettere dove il tarp è rinforzato quindi lì o qui non lo andate a mettere in mezzo perché ok che gli abbiamo messo il sacchettino e l'abbiamo bello stondato però rischiate comunque di danneggiare il tarp quindi ci sono i punti di rinforzo li vedete ok mettetelo se lo volete mettere lì facciamo i palettini ragazzi per il tarp ragazzi palettini per il tarp fatti eccoli qua poi vi vedrete il video del coltello e il video del tarp ragazzi palettini fatti adesso andiamo a metterli al tarp che ormai è finito abbiamo fatto la nostra tendopoli nel bosco siamo tutti contenti ragazzi ero sicuro di avervi fatto il tutorial che poi tutorial sui nodi non li posso assolutamente fare però ero sicuro di avervi fatto il pezzetto di video dove vi facevo vedere i nodini che uso io per mettere in tensione il tarp in realtà ragazzi non l'ho fatto meno non lo trovo quindi l'avrò sicuramente buttato via per liberare spazio nel telefono erroneamente ve lo faccio qua ragazzi allora ovviamente avvolgete intorno all'albero quello che è questo qua il pezzo questo è il pezzo che c'è attaccato al tarp ok quindi mettete questo qua sopra questo quindi questo qua va a fare degli avvolgimenti sopra questo ok li girate proprio intorno semplice così li girate intorno ragazzi ok una volta che avete fatto il vostro bel salsicciotto questo passa di là passa di là e poi si infila in questo buco tiro tutto e ho il mio bel nodino ok se voi provate a tirare questo vedete si mette tutto in tensione ma non molla non è uno scorsoio normale che va a chiudere ok perché su uno scorsoio normale se tirate il nodo slitta quindi quando mettete in tensione alla fine tirate un lato si molla quell'altro questo nodo qua è fatto apposta ragazzi per bloccarsi dove lo mettete quindi quando l'avete messo è ovviamente molle tirate il nodino verso il tarpa più lo tirate verso il tarpa e più lo mettete in tensione ovviamente e una volta che l'avete messo dove volete metterlo con tutta la tensione che volete se voi tirate come le bestie comunque lui rimane lì quindi potete tensionare il tarp veramente a manetta tiratelo pure con le pinze il nodino non si andrà mai a chiudere ovviamente quando dovete smollarlo basta che arrivate qua spingete indietro il nodino e vedete che si smolla tutto ok ritirate il tarpa il nodo verso il tarpa e il tarpa più tirate il nodino verso il tarpa più il tarpa andrà in tensione ragazzi io uso questo è un nodino semplicissimo da sciogliere poi è una stupidata lo mollate tirate fuori questo e avete già sciolto tutto quindi è proprio una stupidata ragazzi io uso questo ce ne saranno mille io uso questo mi sono sempre trovato bene eccoci qui ragazzi tarp montato e sotto vedete l'ele che se la spassa nell'accampamento 4x4 immenso ragazzi veramente immenso 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 ragazzi andiamo sotto a fare un giro entriamo 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 nella capanna dello zio tom eccoci qua ragazzi eccoci qua tarpa ovviamente adesso è uscito il sole prima ha piovuto siamo riusciti a ripararci bene qui sotto si sta da dio lele fai vedere alzarti in piedi praticamente siamo altezza uomo ragazzi guardate lele che è un nano che però non ci arriva ragazzi abbiamo fatto un bel lavoro è un bel lavoro soprattutto che ha piovuto e non ci siamo bagnati adesso ovviamente col sole lo sfrutteremo per fare un bel pranzettino mettiti giù lele che se no non ti vedono intanto io lo faccio vedere anche in lontananza il nostro bel tarp ragazzi 4x4 è veramente grande veramente veramente grande se non avete dimestichezza col 3x3 secondo me 4x4 è impegnativo provatelo provatelo prima di andarvi a fare un'uscita perché è veramente impegnativo ragazzi mi dispiace come modello di avere sempre lele ma è per farvi vedere quanto è grosso ragazzi quanto è grande cioè è veramente immenso è veramente immenso non ci stiamo tutti devo andare addirittura più indietro senza morire ok ragazzi è veramente gigantesco gigantesco ci sta un accampamento di umpa loompa sotto davvero tanta roba ragazzi ovviamente non è un tutorial su come si monta il tarp perché poi sono mille scuole di pensiero mille nodi nelle cose ho fatto vedere i nodini che faccio io conosco quelli faccio quelli e funzionano il tarpa ha piovuto non ci siamo bagnati siamo tutti contenti quindi è semplicemente un farvi vedere quanto è grosso il 4x4 di di amox è veramente enorme ragazzi enorme ci si sta veramente con un'infinità la sotto ragazzi tanta roba tanta roba provatelo prima di fare delle uscite perché è impegnativo da montare veramente grande comunque tanta roba tanta roba ragazzi eccoci qua ragazzi ovviamente tarp montato adesso sta uscendo il sole ha fatto qualche goccia d'acqua per fortuna avevamo il nostro bel tarp perché oggi sono qui con lele il suo bambino nicolò ciao nicolò che ti saluto ovviamente lele poteva tranquillamente bagnarsi ma io nicolò assolutamente no quindi siamo montati il mega accampamento ragazzi 4x4 di di amox è gigantesco ho sempre avuto il 3x3 4x4 è immenso ragazzi fa un accampamento infatti qua l'abbiamo tirato giù per farci anche un po di protezione alle spalle ragazzi cosa vi posso dire se avete sempre usato il 3x3 non avete idea di quanto è grosso questo 4x4 per montarvi il tar nel bosco ragazzi matassina di paracord seghettino per fare il pallo centrale poi l'abbiamo smussato come avete visto nel video palettini intorno per tirare il tarp poi ragazzi ci saranno mille modi per montarlo io solitamente faccio quello che mi costa meno tempo e soprattutto che mi protegge dall'acqua e ovviamente ragazzi anche il coltello questa volta abbiamo il joker ragazzi grazie mille a passione per i coltelli a thomas grazie mille per il tarp per il dv amox che è una bomba questo 4x4 enorme ragazzi ci si può dormire sotto in dodici praticamente dodici uomini e dodici donne messi tutti a sandwich ragazzi cosa vi posso dire sono contento di averlo provato è veramente immenso se lo prendete prima provatelo perché rispetto a un 3x3 è veramente grande vi ho fatto vedere anche il nodino il nodino io faccio quello non ne sono ammazza di nodi quindi non mi dite c'è questo c'è quello c'è l'altro questo funziona il tarpe in piedi tensiona bene non molla per me va benissimo ragazzi voi ne avrete altri 100 mila usate quelli per il resto ragazzi da passione per i coltelli dal dv amox del parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao